Il Bed and Breakfast, la Casa dei Limoni, è situato nelle immediate vigilanze della stazione ferroviaria di Palermo, il principale scalo ferroviario di Sicilia. La stazione è situata nel cuore della città, in piazza Giulio Cesare, e si affaccia direttamente sul centro storico. Dalla piazza, inoltre, si diramano due importanti arterie cittadine, via Roma e via Lincoln, ed è anche la stazione di origine della linea metropolitana di Palermo. Essa venne inaugurata il 7 giugno 1886 ed è caratterizzata da linee neorinascimentali. Prospicente la stazione troviamo il monumento equestre dedicato a Vittorio Emanuele II, eseguito dal palermitano Benedetto Civiletti, nel 1886, eretto a futura memoria per celebrare l'unità d'Italia. La posizione in cui è situato il Bed & Breakfast, la Casa dei Limoni, è ottimale sia per la visita della città che per la facilità degli spostamenti urbani e non, visto che dalla piazza partono e arrivano i bus da e per l'aeroporto Palcone Borsellino, per l'aeroporto di Trapini Birgi, tutti i pullman da e per tutte le province dell'isola, e inoltre nella stessa piazza si possono trovare bar, negozi, agenzie per il noleggio di auto e moto e tanto altro ancora. Grazie per la visione!